ciao a tutti amici di every eye qui è il vostro felice con la rubrica happy gamer e siamo qui per la seconda puntata della nostra serie sull'mmrpg di nc soft ion con la nostra ovviamente bellissima bravissima e per ora poco arcerosa shana se avete visto l'episodio precedente vi ricorderete che eravamo tornati qui diciamo all'accampamento principale per consegnare la missione del vino a qui al mercante mina linerc insomma per capirci e abbiamo notato anche che c'è qualche quest in più forse che possiamo prendere non so se questa ci dà esattamente una quest vediamo un po ci beh ci benedice non si dice mai di no e ci dà una questa quanto pare allora avete già compiuto passi avanti mi interessa vediamo il mio compito è quello di supportare i dei vanno nella loro formazione annuiamo noi annuiamo sempre avete bisogno di aiuto potete tornare in qualsiasi momento possa il signore proteggervi ricompense va bene quanta roba grazie e non dovrei avere altre missioni qui però sono a livello 5 se non ricordo male a livello 5 ragazzi potevamo sbloccare qualche altra tecnica vi darò dei buoni consigli dal nostro amico gillen infatti a questa ce l'abbiamo già però adesso combattimento a due mani o consente di utilizzare due armi o perfetto questa non ne potevo più voglio usare due pugnali d'aghi alla volta cremento precisione incrementa la vostra precisione non si dice mai di no contrattacco mentre siete nello stato schivata provoca da una danni all'obiettivo stordito va bene e nascosto per 30 secondi entri in modalità nascondiglio mentre l'effetto è attivo l'abilità riduce la velocità di spostamento al 40 per cento però divento tipo visibile mi piace le prossime sono a livello 7 9 e 9 ok abbiamo comprato un po di roba cose magari da vendere che non ci servono cos'è tutta sta cosa pergamena evento vabbè insomma ragazzi poi ci penseremo applicatevi allora tac 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 ok ho messo anche un paio di pozioni nell'inventario vediamo le skill che abbiamo preso allora abbiamo contrattacco nascosto quindi facciamo così spostiamo la cura qua la benda la lasciamo da parte un attimo e allora equipaggiamo dov'è forse funge come passiva mi sa che questa funge come passiva forse devo prima attivare vediamo prima attivare questa no no mi sa che funge davvero come passiva quindi possiamo non equipaggiarla forse no per le passive forse me le mette qua vabbè insomma questa diamo diamoci questa vabbè ce la posso fare a trascinarla ok bene ok che ci dovrebbe rendere tipo invisibili per un tot di tempo vedete ci muoviamo più lentamente però non ci vedono ok non si può disattivare vabbè quindi niente qua ragazzi non abbiamo più quest da prendere quindi proseguiamo con la prossima che è incontratevi con un pace che è esattamente no abbiamo c'è una quest da prendere qua ancora dunque dicevo che un pace è ok e no qua questo qua ok ma andiamo a prendere la quest che c'è qua dal mercante di armature eccolo qua magari ci compriamo anche qualcosa diamo un'occhiatina tutti i prodotti sono molto resistenti tutti i prodotti sono molto resistenti eia va bene so come parla ma dobbiamo consegnare penso promesso il vestito eliminate gli abex di bosco e portate le loro pellicce a mune quindi a te quindi dovremo tornare qua abbiate cura di voi guardate questo doppiaggio fa venire il cancro ragazzi vediamo un po' se non ci serve praticamente a nulla no totalmente inutile qua ok qua già ragioniamo queste potrebbero tornarmi utili ok che dite le compriamo queste sono a livello 10 ci può stare dai anche però non so se mi bastano i soldi proviamo vediamo vendiamo della roba un po' eh questi non valgono niente qui di frutta qui di frutta bende polvere si ero del recupero piccolo posso farne a meno queste ne ho due precisione schivata non vali niente questo adesso ma compriamo qualcosa possiamo comprare ci compriamo ragazzi la compriamo questa e questa e li equipaggiamo guardate questo piccolo ok ah ok non l'aveva caricato ok perfetto e vabbè questi ti vendiamo ti vendiamo questo e questo al niente li regaliamo praticamente oddio possiamo anche equipaggiare adesso due due armi ecco vedete sono praticamente identici da vedere comunque adesso in teoria abbiamo equipaggiati due pugnali dovrebbe andare un po' meglio la cosa va bene proseguiamo ragazzi dopo questa piccola parentesi di equipaggiamento che sapete che ci vuole ogni tanto possiamo proseguire allora andiamo a cercare anche mettiamo la quest mettiamo questa questa e questa gli abex dove li possiamo trovare gli abex in che zona ok qua quindi molto più avanti mentre nomus è sempre lì avanti e maid tipo là sempre ok sono tutte là quindi no problem proseguiamo qua c'è pranoa salve pranoa c'è una cosa che mi preoccupa un oggetto in grado di rischiarare la notte vediamo un po' un attimo ragazzi ok vediamo un po' cosa possiamo fare per questo ci vogliono tre luci ferine di scintillante perché qua ci sia abbastanza luce arrivederci si trovano anch'esse stralontane anni luce quindi niente so che ci da delle quest tutte così lontane quando qua magari si potevano fare ancora tante cose andiamo prima da feira a consegnare le la carne di di airone rosa quella lì che avevamo preso prima bello il ponte coi fiori così carino insomma allora eccola dovrebbe essere qua che pesca mollo di feira se proprio è suo ecco feira salve feira questo clima è ideale per la pesca tenga la sua carne prosequi benvenuto e ci da anche una missione pescare in pace mentre i brax dal pelo marrone gli sling dagli atti lappano forte mentre bevono cioè è impossibile catturare dei pesci quindi vuoi che te li accoppo uscire degli ospiti indesiderati quindi i brax e gli sink ok sarà fatto sei enorme ma non fai poi tutto sto danno cioè prendi tanto danno per essere così grosso ok io ne è andato queste poi le rivendiamo diamo una mano a questo no grazie e Vai, vai Perché spadate a tutti Ok Vedete adesso con le doppie La doppia lama Là è tutto molto più È tutto molto più semplice Insomma anche il combattimento I sink Quelli qua I n sink Andiamo da dietro Qualcosa da rivendere, ok Dove sono? Ma va bene Anche se li vado a cercare un po' più in lontananza Qui Perfetto Vai Vai Perfetto Ah, dobbiamo ucciderne cinque Non tre Ah no Ma sei voltato Con un gesto Oh oh L'ho rimbambito Ok Allora questo Direi che il contrattacco Anche che abbiamo appreso Non è male ragazzi Scudo del cacciatore Non lo so Lo raccogliamo Ma se mo' si vende Quindi mancano gli altri Gli esserini Gli n sink Andiamo a uccidere Gli n sink Ce n'è uno Ok Un altro n sink qua Aspettiamo che si ricarica La super ability qua Quella che ci fa One shotare la gente Ne manca uno Che sarà questo Perfetto Fatti fuori tutti Andiamo Signora Feira Ho ucciso la gente Che le dava fastidio Mi dia gli sordi Benvenuto Sì sì Dammi i soldi Ok Perfetto Quindi qua Basta missioni Possiamo dirigerci Tranquillamente Qua Quindi torniamo indietro Ho il completino nuovo Ah sto bene Somiglia un po' ragazzi Diviso a lightning Di final fantasy 13 Se non fosse che Ha i capelli Rosa Lightning E il fatto che Lightning è incompetente Non sa fare nulla Mentre la nostra Shana Invece È Iper Powa Ho letto Sifilide Della foresta Voglio ucciderti Così a random Senza motivo apparente Era irresistente Però Questo lo vendiamo Ok Andiamo Proseguiamo Un po' di Di forestosità Si può raccogliere Questo Magari ci dà Qualche Qualche esperienza Insomma Possiamo rivenderla Può tornare utile Sicuramente Oddio Questo coso Lingua lunga Scintillante Era mica quello Che voleva Che voleva Quel tipo Proviamo Vediamo Via Una con sé Un oggetto In grado Di rischiare Luciferina No Li scintillante Penso sia Tutta un'altra No È esattamente Questa Perfetto Allora Accoppiamo Questi Il rumore Che fa Quando Li stordisce Il contrattacco È stupendo Qualcosa Di impagabile Vai Accoglila Ancora Una No Queste sono Le sifili Di lì Non mi Ah Le chiamerò Sifili Di queste Romare Ce la posso Fare A puntarlo Questo L'ha dovuto Attaccare Siamo saliti Anche di livello Ok La quest lì L'abbiamo Completata Parliamo Con Unpace Messaggero Mercenario Ho troppo Da fare Con Il nostro Timer Allora Questa è la missione Che dobbiamo Consegnare Più o meno Credo Ascoltate Il custodio Della foresta No Che sarebbe Acqua Intorno Vabbè Dammi anche L'altra missione Ladri di funghi Ma in ultimi Questi sono Introvabili So anche Che la colpa È dei Meipigus Pelo corto Quindi Vuoi che Ci uccido I cosi Pelo corto Giustamente Esatto Devo uccidere Otto Di quei Cosi Lì La zona È Qua Un po' Pi' Avanti Potreste Occuparvene Voi Ecco Segniamo Anche Il libro Qui Anam Ma Questo è il custode No Salve Grazie Salve Alberone Quale Detti Koboldi I miei fratelli Alberi Mi stanno Chiamando Basta Devi solo farmi Vedere quello Quindi Ascoltate La foresta Urla Paura Perché I Dukaki La stanno Separando Noi li chiamiamo Dormienti Anziani Avrete bisogno Di questo Il flauto Di Elim Solo con questo Riuscirete a Svegliarli Ok Suonate il flauto Di Elim Per svegliare I dormienti Anziani Segniamo Il libro Anam Ok E questo Ci dà poi Anche altre Missioni Vediamo Un po' Catturate Catturate Le sifilidi Della foresta E procuratevi Le loro ali Portate le ali A uno E chiedeteli Utilizzare Per preparare Qualcosa Di buono Che roba Complicata Poi Parlate con Feira La è stata Spesso Comune Forse In grado Di capire Cosa Vuole Chiederci Noa Ok Quindi Dobbiamo Andare A parlare Praticamente Con lei Parlate Con Feira Perfetto E poi L'ultima Potreste Consegnare Per me Questa Bottiglia Di vino Alonia Nell'accampamento Di Felmon Che Penso Sia Avanti Vero Sì Molto Pi Avanti Ok Quindi Abbiamo Tutte Queste Missioni Adesso Le mettiamo Qui In attivo Questa Qua Non posso Abbandonarla Perché Questa Qua si fa Tipo In un Altro Server Pazienza Allora Attiviamo Quindi Questa 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 Ok Va bene Ragazzi Per questa Puntata Direi che È tutto Con la nostra Shana Che ci fa L'occhiolino Spero Che la Serie Vi Stia Piacendo Lasciate I Commenti Mi raccomando E ci vediamo Col prossimo episodio Per completare Tutte queste Quest Iscrivetevi Al canale E continuate A seguire Felice La rubrica Happy Gamer Bye Bye Bye